La buona notizia è che CGL e Cisleville ritrovano la piena intesa, la cattiva notizia è che bisogna lottare contro una legge di stabilità con una giornata di sciopero, quindi ai lavoratori si chiede un sacrificio ma questa legge va modificata, perché? Sono 4 ore di sciopero, le ultime 4 ore di ogni turno e la manifestazione si svolgerà a vasto al centro culturale, perché la legge di stabilità non ci convince, non serve a rilanciare il paese Italia e anzi in qualche caso potrebbe addirittura rallentarlo. Lo sciopero è stato indetto da CGL e Cisleville unitariamente a livello nazionale, però è stata decentrata ai territori le iniziative da intraprendere. Oltre ai problemi nazionali, quindi ai problemi di tassazione esagerata per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, ci sono problemi di ammortizzatori sociali, quindi di rifinanziamento di cassa integrazione in deroga e problemi anche di trovare le risorse per poter rilanciare il paese Italia. Tenete conto di una cosa, che noi abbiamo anche seri problemi locali, quindi l'iniziativa non è soltanto riferita alla legge di stabilità che non ci convince, ma anche al discorso che noi non abbiamo un rilancio di questa provincia e abbiamo seri problemi di infrastruttura che devono essere affrontati urgentemente. Ricordiamo che la provincia di Chieti rappresenta il 50% del PIL Abruzzo. Sì, anche oltre il 50% della provincia di Chieti, possiamo dire che la provincia trainante, come si diceva, oltre il 50% del PIL dell'Abruzzo si crea in provincia di Chieti.